e adesso parliamo di maschere e di commedia dell'arte e guardate con chi lo faccio con delle maschere in carne ed ossa tu chi sei? Brighella mi sei un po di sola Brighella comunque lei chi sarebbe? Io sono la locandiera mia moglie eh sì quella che ti dà da mangiare state calmi se potete e poi c'è una storica dell'arte serissima preparatissima Federica Maria Papi che ci parlerà di Goia e di Caravaggio anzi sapete cosa facciamo? Che Caravaggio ve lo raccontiamo questa sera in un modo davvero speciale e ve lo lancio anche in un modo speciale così Caravaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Attori e registi che si sono tolti il caso di dirlo la maschera C'è anche Federica Maria Papi che ho già presentato Federica partiamo da te e da un progetto espositivo importante che consiglio di visitare ai musei capitolini di Roma tra un Caravaggio il Caravaggio dei musei capitolini e un'opera che arriva da un po' lontano dal Prado di Madrid da uno dei più importanti musei del mondo Un Goia quindi un dialogo molto particolare come è nata l'idea di questo progetto? Allora intanto buonasera a tutti Il progetto nasce da una politica di scambio e di controprestiti che noi applichiamo con istituzioni importanti istituzioni museali sia nazionali che stranieri e questo progetto è nato proprio con una collaborazione con il Museo Nazionale del Prado al quale abbiamo prestato un dipinto di Guidoreni per un'importantissima mostra che loro hanno dedicato l'anno scorso al celebre pittore bolognese del Secento e in cambio abbiamo chiesto il prestito di un dipinto che ci aveva particolarmente affascinato cioè girando per il Prado in particolare io avevo notato sempre questo questa opera di Goia e mi veniva sempre in mente la Buonavventura di Caravaggio che è una delle due opere di Caravaggio che noi conserviamo nella collezione permanente della Pinacoteca Capitolina Noi possediamo questi due importantissimi capolavori dell'artista, capolavori documentati che ci raccontano dei momenti particolari della storia dell'artista Allora parliamo subito di questi dipinti. Comincerei da Goia e il Parasole, l'opera fotografia numero 7 per la nostra regia. Qual è la storia di questo dipinto? Ce lo puoi descrivere? Allora il dipinto in realtà nasce come cartone preparatorio per uno degli arazzi che Goia era stato incaricato di realizzare in questo caso per la sala da pranzo del Palazzo del Pardo dei Reali di Madrid. È uno dei dieci cartoni preparatori, poi è stato successivamente trasferito su tele e diventato un dipinto. E' un'opera del periodo giovanile di quest'artista che dimostra un po' già tutta la ribellione che assorbe Goia per rompere con degli schemi della tradizione della razzeria fiamminga che generalmente veniva utilizzata appunto nelle decorazioni di questi ambienti di palazzi reali e che prevedeva sempre come temi, temi storici, temi allegorici o temi mitologici. Goia per la prima volta porta invece su questa tipologia di arte una scena di vita quotidiana, una scena tratta dall'osservazione del vero. C'è una donna, una donna del popolo, spagnolo, una maia, che è affiancata da un corteggiatore, uno spagnolo, che le regge l'ombrellino, quindi la ripara dal sole. Lei tant'è vero che chiude il suo ventaglio perché evidentemente l'ombra è piacevole e quindi si mostra verso il pubblico, guarda in maniera accattivante il pubblico perché in qualche modo c'è un gioco di seduzione, un gioco di amore ed è lo stesso gioco di seduzione, di sguardi che si ritrova nella Buonavventura di Caravaggio. Ripeto, sono due opere molto distanti da loro, corrono 180 anni, scusate, tra la realizzazione di queste due opere e però entrambe denunciano una ribellione da parte di questi degli artisti verso la tradizione dei temi compositivi tradizionali. Quindi entrambi portano una grande rivoluzione. Ma lo fanno nel momento più bello della loro vita, quando sono carichi di energia, sono giovani, hanno delle grandi aspettative e quindi stanno per intraprendere un nuovo percorso, una nuova pagina di storia dell'arte che darà vita a nuovi fenomeni artistici. Tant'è vero che con Caravaggio parleremo dello sviluppo della pittura del naturalismo, con Goya comincerà i primi fervori verso quello che sarà la pittura contemporanea a partire da romanticismo. Vogliamo descrivere il Caravaggio dei musei capitolini coinvolto in questo progetto espositivo? Sì, allora noi vediamo una donna, una donna vestita all'egiziana, una zingara, che sembra aver fermato per strada un cavaliero, un signorotto, con l'intento di leggergli la mano, di predirgli il futuro, di augurargli un buon futuro, per questo noi la intitoliamo la buona avventura. Lei lo guarda, lo seduce, lui si sente corteggiato e quindi cede la sua mano, ma in realtà quest'opera è un'opera che nasconde anche un'allegoria, un monito, come spesso accade comunque nelle opere di questo periodo. Siamo alla fine del Cinquecento, l'opera noi la datiamo al 1597, o meglio questa è la cronologia che noi abbiamo sposato rispetto ad altre ipotesi che la vedono realizzata prima, ma è un'opera che viene dalla collezione del Cardinal del Monte e quindi abbiamo la certezza che sia attribuibile a questo anno. Allora, se guardiamo bene la mano della zingara, vediamo che lei sta furtivamente levando l'anello, quindi è un gioco di seduzione ma che nasconde l'intento di un furto e quindi l'allegoria è quella di fare attenzione alle lusinghe, ai falsi profeti, a chi in qualche modo ci corteggia perché spesso si nasconde un'altra realtà delle cose. Tra gli eredi di Caravaggio c'è sicuramente Artemisia Gentileschi che i nostri amici Cinzia e Andrea in studio hanno raccontato in teatro così. Guardate. Grazie. 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 Cinzia, Andrea, con voi il teatro entra nella pittura e la pittura entra nel teatro. Sì, esattamente. Quello che ci ha fatto interessare, ci ha avvicinato all'arte è la teatralità dell'arte. Ma una volta che ci siamo immersi in questo meraviglioso mondo abbiamo cominciato a lavorare sul corpo degli attori e quindi vedere in che modo la pittura poteva prendere corpo. E sicuramente con Artemisia abbiamo anche posto l'attenzione sul ruolo della donna nell'arte che già all'epoca di Artemisia era alquanto anomalo che una donna si riuscisse a fare strada in un mondo diciamo governato da uomini anche nel campo artistico. E lei dice che farà vedere il cuore di Cesare che si nasconde nel corpo di donna ed è stato così sia nella sua carriera pittorica e ancora adesso perché ci ha fatto vivere le emozioni facendo lo spettacolo su Artemisia Gentileschi ci ha fatto rivivere le emozioni proprio che probabilmente ha sentito lei dipingendo. Federica, da storica dell'arte cosa ti colpisce di questa narrazione in teatro della pittura? C'è molta affinità naturalmente tra la pittura e il teatro proprio tornando alla Buonaventura noi colleghiamo anche quel dipinto alla commedia dell'arte perché in fondo Caravaggio rappresenta una con l'osservazione dal vero scene della commedia della vita che avvenivano a Roma nei vicoli vicino a Piazza Navona ma addirittura ancora adesso può capitare di trovare una zingara che ci vuole leggere la mano. E la commedia dell'arte è proprio la commedia della vita che Caravaggio porta sulla tela e ricollegandomi anche al discorso delle donne proprio in questi due dipinti quello di Goya e quello di Caravaggio protagoniste sono due donne. Due donne che con le loro armi si educono ma comunque sono il soggetto principale del dipinto e quindi in questo senso c'è una grande analogia anche con questi pittrici che diciamo ci sono state nella storia dell'arte, ce ne sono state diverse ma che purtroppo non hanno avuto la possibilità di essere ricordate nel corso dei secoli ma si stanno riscoprendo. Andrea voi avete dichiarato che siamo un po' tutti Caravaggio ma in che senso? Io non so tenere un pennello in mano per esempio. No, innanzitutto penso che sia su Caravaggio penso che sia la forte drammaticità di Caravaggio probabilmente. Un po' siamo tutti Caravaggio perché un po' anche Caravaggio si metteva in scena spesso e anche nel nostro spettacolo Caravaggio in qualche modo si rimette in scena in continuazione. Infatti lo spettacolo non è una cronologia della vita di Caravaggio ma è in qualche modo un passaggio tra la vita reale e la fantasia, tra l'incubo e il sogno. E Caravaggio ripetutamente si mette in questi quadri, esce ed entra in questi quadri. E un po' è quello che abbiamo fatto anche noi. Soprattutto nella prima fase, lo spettacolo ha avuto più fasi dello spettacolo, abbiamo collaborato con dei pittori, non con degli attori. Perché volevamo il gesto pittorico, non solo il gesto attorale. E in questo caso tutti eravamo Caravaggio e quindi questa immagine di Caravaggio è diventata comunque l'audioscopio. E quindi si è mossa, si è in movimento e questo ha creato un'opera unica in movimento in qualche modo. Come reagisce il pubblico? Il pubblico innanzitutto, la figura di Caravaggio affascina sempre in ogni momento. Nel teatro, devo essere sincero, ho ancora di più perché la teatralità di Caravaggio è evidente, sì. Però poi bisogna realizzarla, bisogna farla. Quindi l'importante è l'utilizzo della luce, l'utilizzo del corpo sicuramente, ma anche della drammaturgia stessa. Noi negli spettacoli usiamo anche la musica dal vivo. Per esempio Luis Alberto Alvarez, il nostro artista musicista, ha composto le musiche per questi spettacoli, sia per Artemisia che per Caravaggio. Quindi sono opere dove noi all'interno mettiamo un po' tutte le arti. L'arte fisica, la parola, la musica, la pittura, la pittura dal vivo. Quindi è una commissione di arti che cerchiamo di realizzare in un'unica opera. Voi siete anche degli esperti di commedia dell'arte, che è molto antica, una grandissima e gloriosa tradizione, e di maschere quindi della commedia dell'arte. Cosa ci avete portato in studio? Per esempio qui sulla mia scrivania, cosa c'è? Sono maschere che hanno una storia. Cominciamo a fare i nomi di queste maschere, che sembrano inquietanti, ma in realtà non lo sono. No, assolutamente, anzi, di alcune possiamo fare dei nomi sicuramente. Abbiamo un pantalone che, come possiamo vedere, è quello con le ciglia, con le ciglia bianche. Io faccio la prova, eh? Esatto, esatto. Sono maschere, tra l'altro, di cuoio. Sono maschere in cuoio, sono maschere con cui si può recitare, naturalmente, sono maschere che noi utilizziamo per recitare. Ed è molto importante perché il lavoro dell'attore in maschera è un lavoro anche faticoso. Il cuoio permette un secondo volto, in qualche modo. Poi abbiamo la maschera dell'arlecchino, che è quella maschera nera che sta al centro. È una maschera, esatto, precisamente. Questa è una maschera molto importante. È quella qui, l'arlecchino. Esatto, è una delle più grandi figure della commedia dell'arte, è uno dei più importanti personaggi. Poi, la maschera che ho io, per esempio, questa qua è la maschera del Brighella, per esempio. Quindi, un'altra maschera ancora, di un altro personaggio della commedia dell'arte. Poi abbiamo la maschera dello Zanni. Questo è un altro Brighella. Questo è un altro Brighella, facciamo. Esatto. Chi le produce queste maschere meravigliose? Sono delle sculture. Sono delle sculture. Queste sono dei grandi mascherai, soprattutto a Venezia, ma non solo, che li producono artigianalmente. Adesso l'opera della maschera, nel Novecento, grazie anche a grandi mascherai, Amleto Sartori, Donato Sartori, che sono di Padova, hanno rimesso, in qualche modo, nel Novecento, di nuovo, il focus sulla maschera. Quindi adesso noi stiamo riscoprendo sempre di più come si recitava nel Cinquecento e nel Seicento. Perché la commedia ha un'origine antichissima, affascinante, che però noi vogliamo portare fino a oggi. Quindi cerchiamo di mantenere la tradizione. Queste altre maschere? Queste sono il capitano, un capitano della famosa maschera, e l'altro è uno Zanni. Lo Zanni che sarebbe un po' una delle prime maschere della commedia dell'arte, una delle maschere più antiche, probabilmente. Abbiamo anche degli abiti, abbiamo parlato di queste due maschere, lo faccio vedere bene, la regia è sempre molto puntuale. Abbiamo anche degli abiti, dei costumi. Ce li potete descrivere perché sono meravigliosi? Abbiamo un abito di arlecchino, assolutamente artigianale perché fa parte della nostra costumeria teatrale. Ce li potete indicare bene? Questo è l'arlecchino. Chi realizza questi abiti? E dove? Questi li realizzo io per la compagnia, per i nostri lavori teatrali. Con le tue mani? Con le mie mani. Quanti talenti. Non sono, diciamo, una professionista ma faccio dei costumi che servono per recitare, quindi questo per esempio, questo arlecchino, l'ho costruito con delle stoffe, diciamo, di recupero, di tappezzeria stile veneziano ed è diventato il nostro costume di scena. Invece dietro abbiamo portato un esempio di un arlecchino africano, cioè quello che in Africa viene chiamato il griot, il cantastorie, e che come arlecchino indossa un abito pieno di colori, con un cappello africano anche sempre appartenente a queste casse di cantastorie. E poi abbiamo portato anche un arlecchino, un esempio indiano, è un gilet che fa parte di un vestito multicolore che viene indossato dai cantastorie in India, in questo caso specifico i cantastorie del Bengala, che si chiamano Baul. Ma che bello il fatto che queste maschere e questi costumi facciano il giro del mondo. Esatto. Siano veramente ecumenici. Qual è la storia di arlecchino, per esempio? Beh, la storia di arlecchino è una delle storie più affascinanti. Faccio una premessa, dobbiamo ritornare nel Cinquecento, in quanto innanzitutto la maschera dell'arlecchino è una maschera molto antica. Possiamo definire l'arlecchino quasi come se fosse una maschera europea, dico questa cosa, nel senso che proviene da storie che vengono dal nord Europa, dall'est Europa. E in qualche modo questa figura di questo diavolo, che lo stesso Dante mette nei propri canti, lo chiama arlecchino, 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 arriva dall'inferno. Anche il Pulcinella, peraltro. E anche il Pulcinella, assolutamente. E' molto interessante questo aspetto. Sono due personaggi che... Infernali. Infernali, esatto. Non si direbbe pure. No, hanno questa provenienza. Sono dei piccoli diavoli che in qualche modo sono riusciti dalla terra, dall'inferno. Infatti, spesso la maschera dell'arlecchino è nera. Perché? Per ricordare la fuligine dell'inferno. E anche la maschera dell'arlecchino ha un corno rosso. Questo corno, che adesso la maschera non ha più, è per ricordare che un tempo era un diavolo. E quindi quello è il piccolo... è quello che è rimasto del diavolo di Arlecchino. È una maschera molto antica, dicevo. Abbiamo un nome che ha inventato questa maschera, Tristano Martinelli. Possiamo definire che lui, nel 1584 più o meno, inventa la maschera dell'arlecchino. Cioè, inventa significa la mette in scena, la fa recitare. Ed è il primo che in qualche modo cambia il vestito. Era un grande acrobata, era un grande attore, Tristano Martinelli. Ed è il primo che comincia a scrivere delle cose. Insomma, da lì la maschera dell'arlecchino comincia a diventare importante in tutta Europa. Questo è importante sapere. I commedianti dell'arte hanno viaggiato con i carri della commedia per tutta Europa, facendo diventare la commedia famosissima, arrivando fino alle grandi corti del re di Francia e delle grandi corti italiane. Perché? Perché non c'era festa se non c'erano i commedianti. Ed era molto importante per i grandi matrimoni anche, per le grandi feste. Questo per dire che a un certo punto, anche in Francia, la maschera di arlecchino diventa famosissima. Tutti vogliono vedere l'arlecchino. E il povero Brighella che tu stai indossando in questo momento? Il povero Brighella sono delle evoluzioni della maschera dell'arlecchino. In qualche modo gli arlecchini sono tutti degli zanni. Cioè, sono tutte delle maschere. Poi gli zanni si dividono. Lo zanni un po' più furbo, lo zanni un po' più scemotto. Il Brighella è uno zanni, ma un po' più evoluto. Usa il cervello e di conseguenza ha naso per gli affari. Il naso in questa maschera è molto forte. Quindi sono evoluzioni del Brighella. Il Brighella comincia a volere i soldi, comincia a fare i soldi. Questo cambia l'atteggiamento della maschera e cambia anche la posizione sociale, in qualche modo, dei personaggi. Cinzia, qual è la storia invece della locandiera che tu interpreti anche in questo momento? La locandiera, per esempio questa maschera, è una nostra licenza. Nel senso che i commedianti dell'arte furono i primi a portare le donne in scena. Ma spesso le maschere venivano indossate di più dagli uomini. Per una questione anche di affetto per questa maschera, che come vediamo con queste corna ricorda sempre questa provenienza demoniaca, di questi demoni anche buoni, che vengono a risvegliare, diciamo dopo l'inverno, la terra perché dia frutti a primavera. E allo stesso tempo le maschere in teatro risvegliano la nostra coscienza, perché ci parlano di uomini e donne presi appunto da scene anche popolari e di vita quotidiana, come poteva essere in una locanda dell'epoca. Esatto. E voi tra poco tornerete in teatro, con il favoloso viaggio che noi vi vogliamo raccontare così. E voi tra poco tornerete in teatro, con il favoloso viaggio che noi vi vogliamo raccontare così. I know there's a nice line, good. Francesco! Di cosa parla questo spettacolo? Il favoloso viaggio è la storia di due commedianti realmente esistiti, Francesco Andreini e Isabella Canali, sua sposa e compagna d'avventure teatrali. Funono dei commedianti che a fine Cinquecento portarono la commedia dell'arte in tutta Europa, fino alla corte di Francia. e a loro abbiamo voluto dedicare questo spettacolo perché è un tributo che ci sembrava doveroso nei confronti di due grandi attori che magari vengono, diciamo, dimenticati o poco conosciuti persino in Italia. E quindi abbiamo recuperato la loro storia perché abbiamo molti documenti che parlano di loro ed è nato il favoloso viaggio. Esatto, per esempio Francesco Andreini fu un grande drammaturgo, inventò la maschera del famoso Capitano Spavento da Balinferna e scrisse per questa maschera. Isabella Canali fu una grande attrice. Se oggi noi diciamo l'innamorata, la chiamiamo Isabella, lo dobbiamo a questa grande attrice che non era solo attrice, era una grande poetessa, scrittrice del tempo. Quindi il ruolo delle donne in quel momento nella commedia dell'arte era fondamentale. Non erano solo attuatrici, ma scrivevano poesie, pezzi di teatro, tragedie e commedie. Era in quel momento un momento altissimo per la cultura del teatro in Italia e all'estero, sicuramente. Quando e dove vi vedremo in teatro con questo spettacolo? Facciamo un po' di pubblicità, progresso. Bene, visto che la commedia è giusto, perché la commedia deve essere vista e riscoperta. E questa è cultura con la C maiuscola. E beh, grazie. C'è tutto. Allora, ci vedremo il venerdì, sabato e domenica, 9, 10, 11 febbraio, al Teatro di Documenti a Roma. Uno splendido teatro costruito da lo scenografo Luciano Damiani, posto adattissimo per la commedia dell'arte, dove stiamo svolgendo anche un laboratorio di commedia dell'arte proprio all'interno di questo teatro. Quali sono state in questo laboratorio? Quali sono le materie? Allora, innanzitutto pensiamo che sia d'obbligo anche raccontare un po' la storia, per raccontarla di nuovo e raccontare la storia di come sono nate appunto le maschere della commedia dell'arte. Ovviamente il laboratorio è teatrale, per cui ci approcciamo anche al testo, ai lazi, all'improvvisazione, alla conoscenza dello spazio scenico, ai movimenti del corpo e anche alla mimica, ovviamente, perché portando la maschera il corpo assume un valore maggiore sia nei gesti che nel movimento. Per cui c'è tutto un linguaggio, un alfabeto magico da riscoprire, da praticare. Per chi si volesse iscrivere, dove trova le informazioni? Beh, trovano informazioni attraverso la compagnia teatrale. Noi si chiamo compagnia teatrale Monar Manus e Andrea Lattari, sono io, per trovare le informazioni può trovare attraverso queste, cercando il nostro sito, le nostre pagine social. Grazie a Cinzia Grande, grazie ad Andrea Lattari e a Federica Maria Papi. Vi ricordo che abbiamo parlato anche di questa mostra dedicata a Caravaggio e a Goia, in corso ai Musei Capitolini fino al prossimo 25 febbraio. Ma i Musei Capitolini valgono sempre bene una visita. Ed ora pubblicità e poi parleremo di streghe. A tra poco. Grazie a tutti.